Il problema del randaggismo diffuso in città è stato sottolineato diverse volte. Tantissimi quartieri sono presi d'assalto da branchi di cani randaggi. Ricordiamo che una donna è stata anche aggredita a San Luca qualche mese fa. Oggi ci troviamo in piazza Garibaldi. Sì, sono tranquilli, però ci sono quattro cani randaggi qui in piazza. Esatto. Io le posso dire solo per la mia esperienza di dieci minuti fa. Hanno telefonato al veterinario, ne faccio un nome, mi assumo le responsabilità perché c'erano i vigili urbani. Lui ha dichiarato che la legge prevede che sento i cani sterilizzati e microcippati devono convivere con i cittadini. Però non è venuto nessuno a controllare se realmente sono sterilizzati e microcippati. Perché se microcippati sono, si deve dire chi è il proprietario, chi è l'intestatario del microcipp. In questo caso se è il comune o meno. Questa è la mia opinione.